guardate guardate cosa fa lucino questo è l'ingresso dello studio legale e lui la fa la cacca la fa qua cioè solleva e la fa lì dove entra la gente quindi voi dovete pulire una lettiera piccola io devo pulire tutta questa zona qui per cercare le sue cacche che dopo un po puzzano vi rendete conto non la fa più in casa la fa qua sotto il telo verde io non so luci lucino dai che la mamma il mal di gola lucino luci dove sei luci non c'è mica lui tante volte sta qua in fondo un iris guarda è fiorito il primo iris che bello no luci non c'è sarà andato su dal cugino mosi niente vi do il buongiorno qua c'è un gran vento e io mi sa che oggi faccio le pulizie nonostante abbia un gran mal di schiena come al solito e poi mi tocca raccogliere qui la cacca di luci guarda questo è un mucchietto qui sotto sicuramente c'è un po di cacca di luci ecco qua arrivederci ciao